e oggi il capo redattore centrale del suo blog di vini su Cogliere.it racconta non solo i molteplici aspetti del vino ma la vita di coloro che lo producono Seguace di Baronelli nei suoi scritti si percepisce il valore del lavoro dell'uomo in vigna e quindi in vigneto, il valore della terra, della storia e della tradizione ma lui con attenzione anche alle nuove generazioni di vignaioli e qui guardo Rosanna raccontando i loro sogni e anche le loro tendenze del vino con il suo lavoro rappresenta l'unione tra la tradizione della carta stampata e i nuovi media Premio, il miglior comunicatore dell'anno, Luciano Ferraro e intanto Rosanna pervene a portare qui il messaggio dell'azienda e tra l'altro Luciano verrà anche premiato, spero con una bella attestata Grazie Marzia Morganti Tempestini e guardiamo qui pronti a puntare e a postare e con una bella magno che credo di giuggerire che non si verrà da solo naturalmente Luciano Ferraro ecco qua, vi lascio soli per la fotografia scusatemi, ecco scusate questo tempo tecnico dovuto a telecamere, media e quant'altro e voilà, grazie allora possiamo posare un allocco poi chiaramente Rosanna ritorna perché